Ciao a tutti ragazzi, arrivati i ricambi per restituire la distribuzione alla Nissan Qashqai. Partiamo subito con la cinghia accessori, quella esterna, questa la vera e propria cinghia della distribuzione della Daiko, che molto spesso monta di primo impianto, 119 denti per 27, che è lo spessore, inclusa nella confezione Daiko troviamo la pompa dell'acqua, che è ancora super ingartatissima, tenditore, naturalmente marchiato Daiko, bullone di ricambio, mentre esternamente su un altro sito ho preso il liquido di raffreddamento, 3 litri, che è diluibile, quindi al 50%, e ne porta 6 litri e completo il tutto. Trovate il video completo nel canale a breve.